Anna Risa si è esibita ieri, 2 marzo 2021, nella prima puntata del Festival di Sanremo, con il suo brano, un brano musicale di grande, nonché piacevole intensità, intitolato proprio Dieci. Un'unica parola che ha un significato profondo, forse il Dieci come numero, come voto scolastico, Dieci il numero perfetto azzardo a diri, Dieci il numero più alto che ci sia per quanto riguarda la votazione scolastica. E' forse un inno a fare sempre meglio quello che Anna Risa va ad imprimere in questa canzone angelicata, una canzone forte, tonicamente estesa, che non lascia spazio a dispiaceri, ma che lascia spazio invece a emozioni profonde, a emozioni, nonché gioie, di natura intensa. Ma oltre a ciò bisogna anche riconoscere che ieri c'è stato un piccolo fuori programma per Anna Risa, perché? Perché pensate che proprio Anna Risa sul palco dell'Ariston si sarebbe mostrata con una scollatura piuttosto profonda, una scollatura vertiginosa, la quale avrebbe lasciato vedere un po' tutto. I fan sono letteralmente impazziti, sono rimasti davvero increduli, molti hanno detto incredibile quello che vediamo, infatti si vedeva proprio Anna Risa quasi fuori di seno. Insomma, un'emozione unica per un brano piacevole, ma anche per una bellezza florida e mediterranea, quella di Anna Risa, dove è andata veramente a farsi notare, a farsi ben vedere. Complimenti a lei dunque, il video termina qua, iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti dal vostro Leandro, un arrodo italiano.